Hanno avuto un boom di visite, sono diventate un modello di impresa sociale, ora le catacombe di San Gennaro a Napoli potranno essere visitate anche virtualmente. Vediamo come, con Maria Laura Massa. È affascinato dalla bellezza del luogo il professor Herbert Maschner e lo definisce il lavoro più complicato mai realizzato in Europa. È uno straordinario esempio di democratizzazione della scienza. L'archeologo americano coordina il team internazionale che sta realizzando il modello 3D delle catacombe di San Gennaro e dell'osservatorio di Capodimonte, un tour virtuale che sarà presto messo a disposizione di tutti, gratuitamente. Un progetto finanziato dalla ONG statunitense Global Digital Heritage è realizzato insieme alla sudafricana Zamani Project di Cape Town e al centro interdipartimentale di servizi di archeologia dell'Università l'Orientale di Napoli. In campo 15 giovani ricercatori da 6 nazioni e tecnologie all'avanguardia. Un tour virtuale e la possibilità quindi di navigare all'interno di questo oggetto tridimensionale, di esplorare parti che non sono attualmente visibili e poi anche una parte più di documentazione archeologica e quindi anche la possibilità in futuro di poter pianificare eventualmente dei restauri o forme diverse di valorizzazione. Questi oggetti saranno resi disponibili gratuitamente, chiunque potrà riutilizzarli anche all'interno di app o di altri sistemi di valorizzazione. Il tour virtuale farà conoscere gioielli della sanità a milioni di persone nel mondo. Un valore aggiunto per un quartiere che da anni ha innescato un processo virtuoso di economia dal basso, protagonisti i ragazzi. Vincenzo avete cominciato 13 anni fa, erano 5.000 visitatori qui alle catacombe di San Gennaro, oggi sono 150.000. E' un altro miracolo targato la paranza. E' un miracolo di San Gennaro possiamo dire, che continua a essere impattante nel territorio, perché come si può immaginare questi visitatori che arrivano alle catacombe di Napoli poi entrano nel rione Sanità. E' questo flusso che attraversa il quartiere sta di fatto cambiando le sorti di un intero territorio.